Benvenuti, benvenuti nel mio canale, solite raccomandazioni, so di essere insomma ripetitivo però insomma è così, iscrizione è importante, per voi è gratuito, per me vuol dire tanto, campagna attiva per essere avvisati nel momento in cui viene postato un nuovo video per le live, delle conferenze, delle interviste che man mano si faranno su questo canale, commenti, like quant'altro, fatemi sapere cosa ne pensate, intervista a Posca di Bernardeschi che ha aperto le marcature.